Ok, vediamo. Cosa devo fare oggi? Una vali... Chi mi ha buttato fuori casa? Fammi dire che è di nuovo mio padre. La tua musica emo... Mi ha buttato fuori... Di casa? Semplicemente non capisce. È una storia tristissima questa, ragazzi. Quando tuo padre ti mandò fuori a pedate nel cuore, è un problema. Dai un nome alla tua band. Allora, vediamo. In inglese lama si scrive con due L, quindi lama. Ma lama... No, con la X, lamax. Bello, bello. Mi piace. Scegli uno stile. No, lamax qualcosa tipo... Tipo... Ci potrebbe stare. Vai. Lamax. Vediamo. 5 milioni parla... Ah, per parlarli devo pagare 5 milioni. Perché vedo una freccia di Friday Night Funkin' qui dietro? Suona la chitarra. Ok. Ok. Va bene, sono al bando fortutto da solo. Ovviamente, ragazzi, se volete diventare delle pop star, come il sottoscritto, anzi, delle rock star. Non è così che si sta a scedere, però. Sono abbastanza sicuro. Ok. Cos'altro mi rimane da... Ah, da cantare. Sentiamo che bella voce che ho qui. No, direttamente no. Direttamente la mia voce non c'è. Faccio così schifo. Allora, mi ha buttato fuori di casa, ma la mia band è qui in casa. Quindi non ha molto senso. Che bello, Lamax. Raga, voglio delle fan art con questa cosa. Ok, non ho soldi. Com'è che guadagno questi soldi? Posso andare di casa in casa a vendere i dischi, tipo? Voglio fare i soldi! Com'è che faccio i soldi? Hai fatto due canzoni... Ah, ok. Hai fatto due canzoni e guadagni 30 dollari. Va bene? Fase di caricamento. Vediamo un po'. Oh, no! È un po' diverso da quello che avevo scritto io, però. Ok? Ok? Wow, guardate che pubblico che c'è. È incredibile! Faccio così schifo! Sì, sono molto più bravo a cucinare che a cantare, in questo caso. Ho 100% di perfezione, però. Siete proprio che sono un vecchio giocatore di FNF! Woo! Grazie! Grazie a nessuno, grazie. Sono tutti via. Però qualcuno mi ha pagato. Ho 180 fan. Wow. Ah, ci sono anche altri player. Faccio così schifo. Ahahahah. Ok, allora. A mille fan. Ok. E qua posso espandere il garage. E spandiamo. Uh, che figo. Allora... 50.000. Ok. Compro un ufficio di marketing. Ci può stare. Ci può stare. Accento invece la... La sala da registrazione. Non posso comprare qualcuno che mi possa aiutare a comporre. Scusate. Fatemi vedere qui. Allora, ho 25 dollari. Oh mio Dio, costa tutto tantissimo. Che cavoli. C'è qualcuno che mi vuole dare una mano? Oh, un chitarrista. Fantastico! 70 costa al prossimo. Vai così? Ok. Cosa? Mercoledì Adams è chitarrista. Va bene. Vai. Continuiamo. Dobbiamo fare un botto di canzoni in questa maniera. Per poi fare un concerto. E guadagnare quei soldi. 5 minuti dopo. Allora... Oh, qua fa vedere che c'è tutta la folla. Va bene. Oh, è il primo componente della mia band. Totalmente! Non sono più solista. Va bene. Ok. Da che composta la tua band? Non so. Dal mio amico. Dal mio insegnante. No. Mercoledì Adams. Ma che cavolo? Va bene. Stile unico proprio. 540 fan. E 90 dollari. Per un totale di 100. A posto. Vediamo chi è. Non giuro che sei. Kai. No. Ok. Va bene. Allora 250 al batterista. Ma siamo seri così tanto. Vabbè. Vediamo che c'è lavoro ragazzi. Ce la possiamo fare tutti quanti insieme. Possiamo guadagnare davvero tanti soldi se facciamo tutto bene. Ma così? Meno male che tutta sta musica c'è scritto proprio nella descrizione. Non è copyrightata. Altrimenti. Ha ha. Aiuto. Va bene. Oh cavolo. Ho fatto un bene. No. Siamo ancora al 100% però. Finché non misso dovrebbe andare tutto bene. No vabbè. Polla in delirio. Un po' fermi la polla. Ok. Ora molto meglio. Ho fatto davvero tanti soldi ragazzi. Ho scioppato il per due. In modo che magari riusciamo effettivamente a finirla. Robi! Robi come batterista. No vabbè. Tutto. Vinto tutto sta roba. Ok. Adesso i Lamax diciamo che siamo un tizzo di cui non mi ricordo il nome. Mercoledì Adams e Robi. Ok. E io. Ci sta. Mi piace. Ok. Facciamo un botto di canzoni. Magari riesco anche a potenziare qualcosa finalmente. Non lo so. Ok. Credo che praticamente ci siamo. Possiamo guadagnare un altro bel popò di soldi. E non solo. Sono anche andato lì a potenziare un po' di varie cose. Tra cui la merce. Quindi suppongo che adesso possiamo fare le magliette. Che vi ricordo che ci sono anche le mie vere magliette ragazzi. Vi ricordo. Sotto ogni video potete acquistarle quando volete. Come volete. Di tanti colori diversi. Vai così. Vai una carrozza. Questo mi piace. Aha. Oh. Una band decente finalmente. Guarda che belli che siamo. Oh. Curiosità su Hero. Io per davvero sono. O meglio. Ero. Ma volendo posso uscirci anche adesso. Un musicista. Ragazzi. Suonavo la fisarmonica io. A molti potrebbe non piacere. Però mi piaceva un botto. Comunque. Allora. Grazie quindi per canzone. Oppure a mille. Eh. Però a mille c'è il cantante a noleggio. Farebbe tutto molto più velocemente. A sto punto mi conviene di più aspettare di fare mille dollari. Per avere il nostro nuovo cantante. È il momento della mia pensione. Di già? Ok. Devo cercare di non fare miss. In modo da ottenere più fan. Soprattutto. Oltre che più soldi. O comunque la somma di soldi giusto. Se non fosse che è troppo facile questa cosa. C'è chi un pochino più di difficoltà. Potevano metterla. Cioè sono un esperto io di questa ro. Ok va bene. Giustamente gli altri che ci giocano magari. Non sono forti quanto me. Cantante a noleggio. Chi sarà il nostro cantante? Ti prego fai che non sia un tizio brutto. Ok no va bene. Ci sta. Ok vai. Fate soldi. Fate cose. Io vado a occuparmi di business. Allora per di qua per esempio. Avevo notato. Che ecco. Questo qua era 10 dollari. Questo qua 15. Ok. Per il marketing. Va bene. A 50. Assumi un amico per marketing. Ah questo è il coso delle magliette che diceva. Fabrica di caffè che senso. Perché? Ah per mandargli avanti forse. E questo cosa sono solamente 10. Merchandising. Ok questo va bene. Oh mio Dio. Però qua 17.000 fan. Io quanti ne ho? Ne 8.000. Ne 8.000! Lì già. Wow. Così qualcosa posso combinare. Vediamo. 50.000. 8.000 dai. Niente. Wow. Ok. Fantastico. Va bene. Qua 50.000 invece per l'altra decorazione del garage. Ho finito tutti i soldi. Ok vai ci sono. Ero andato un attimo in bagno. Non ho neanche guardato quanti soldi guadagniamo da questa. Ok. Vabbè questa è bellissima. Mi piace. No vabbè bella. Bella. Fantastico. Perfetto. Quanto mi ha guadagnato? Non c'ho un po' tra l'altro. Oh mio Dio. 12.000 fan. Scusate sei un mio fan. Bruh. Bruh. Ok va bene. Allora. Vediamo un pochettino. Qua abbiamo già 330 per il prossimo spettacolo. Allora. 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 Riflettiamo. Riflettiamo. Quanti fan abbiamo? 21.000. Ancora non facciamo niente con 21.000 fan. Però intanto posso acquistare questo. Usando solamente 100. E... Unico per riprodurre. 9 milioni di sans. Sì. Parapapapapapa. 8.000. 800. 800. Ah no. 8.000. Ah. 800. 1000. Ok. 800.000. C'è gli ho un po' di soldini. 500. Ma ancora lui? Ma quanti lavori fai? 100. Ciao. 200. Ok. Jenny. Ciao gente. Eltre 500. Ottimo. 30 no. Ok. Questo credo che sia per loro in modo che vanno a bere il caffè. Per non addormentarsi E per il resto qua vediamo un po' Cos'è che posso fare Ah 40 Fare merce Ok Altro E così Ok qua dovremmo essere a posto Non so poi dove mi vanno a contare Tutte queste cose sarò sincero Contratti Oh mio dio quanti contratti volete scusate Oh mio dio quanto bevete Sono super dispendiosi C'era Errol qui che va bene Fate quello che vi pare Comunque io non so bene dove andranno a finire tutti i soldi Tutti qua insieme Cioè vengono tutti accumulati Quando lo spettacolo può darsi Effettivamente Allora qua posso anche aggiornare Ah no mi vengono dati piano piano i soldi Ecco che crescono infatti Ok Più soldi per canzone Ottimo 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 Ok tieni tu i nuovi contratti Poi Per i miei dipendenti da caffeina E le magliette Perfetto Allora a sto punto aspetto un altro po' Che producono qualcosa E poi andiamo Allora solo una cosa che ho notato È che qui Con 50 Posso espandermi ulteriormente Ah ce n'è un altro proprio Però questo mi viene a costare mille Ok anche 500 mila fan Devevi riempire qua Qui Così fanno altro Qua era rimasti solamente due contratti Prendono abbastanza Però mi danno più di quello che prendono Quindi la cosa funziona E infatti qua Eh con tanti potrei già aumentare ancora Non male Non male Qua oh mio dio Siamo arrivati appartemente a 5 Ok ok Facciamo facciamo la canzone Velocemente Così abbiamo altri 5 mila dollari Da poter usare E ho aumentato il budget proprio Fantastico Questo era come riuscire a fare una banda Però non sto pagando tasse La cosa è molto strana Senti mi vengo sempre a riscattare il tasso In questa maniera Ok quanti fan siamo arrivati 51 Oh Cos'è cambiato Quasi niente Wow Robaccia Va bene Abbiamo qui stato tutta la robaccia Vai ragazzi Conto su di voi Vai ro Sei grandissima Allora Qua ne abbiamo 6 mila A sto punto aumentiamo qua E aumentiamo questo In modo che riesco a guadagnare Molto di più E qui mille Ottimo Adesso guadagnerò Più da tutto Praticamente Andiamo a refullare I contratti E quant'altro Qua nei fatti Ne sono rimasti due Qua quante magliette Quattro Ne mettiamo 30 E via dice Guardate i soldi Come si alzano Vertigili Ah bisogno di caffè Prego Dipendenti Tossici Da caffè Mangiate Mangiate Cioè bevete In questo caso Ottimo Ottimo Ok Credo che possiamo andare Anche a fare un'altra Perché guadagniamo 6k E sto continuando a guadagnare Ho potenziato ancora di più Le magliette anche Vai così Vai per fare tutti questi Nei soldoni Ah ma ci stiamo letteralmente Trasferendo Oh mio dio La velocità è aumentata Oh Avevo chiesto un po' di difficoltà Va bene Fare dei net funky Improprio Va bene A noi ci sta E' ancora troppo semplice Ragazzi Sono solamente tre note Io avevo fatto Shaggy Che ne ha nove Grazie Grazie Siete fantastici Già mille dollari Qui Wow Ok Andiamo a vedere Come sempre qua i contratti E quant'altro In realtà potrei spendere Ah infatti qua Fabrica di caffè Ok vai E altre magliette Ne sono rimaste due Ok Abbiamo refullato tutto Continueranno a produrre Allora Quello che mi manca 89.000 Fa un po' troppare qualcosa Aspetta Allora 50.000 questo Ah ok Figo Anche questo No vabbè Ma è pieno di emo Ma che cavolo Questo 500.000 Qua posso far qualcosa 17.000 30.000 Una monster gigante Vabbè 17.000 Poster movitazionali Grandi Uh Ok Allora qua 500 Posso acquistarne un altro Che faranno più magliette E suppongo che ne potrò acquistare ancora altri Posso espandere Ok Qua costa 1000 Molto bene 1700 Posso farlo ancora? Vai Posso farlo un altro? No Qua costa 4500 Ok Producono un botto di roba Per essere però Ho 70 maglie adesso Infatti Molto bene così Allora Di qua invece Caffè Refullato Qua quanto mi costava? 1000 Ah mettiamo altra roba del marketing Allora 1800 Ok Altra 600 Adesso ho bisogno per forza Di andare Eh A fare una canzone Ok Dovrò anche aggiornare La recording studio Dovrò per forza fare anche quello Però per ora Diciamoci Diciamoci Posso aumentare qualcosa 1700 No però 15k Posso aumentare ancora di più I soldi che mi danno D'esibizione In realtà se aspetto un attimo Posso Avere più marketing Ecco infatti Fantastico Ok andiamo avanti allora Riusciamo a far 7k Ma anche di più Perfetto Vai ci siamo Ci siamo Vai così Roccia Rock Ok ammetto che la difficoltà è aumentata È ancora più veloce Non male Non male Non male Ci siamo Ci piace E ho guadagnato 7k E passa Più 43k Fan Oh mio dio ragazzi Oh mio dio Allora Qua mi costa 15k Per aumentare tutto Ok all'altro Ok allora sto punto Aumento solamente Gli altri due punti Questo In questa maniera Dovrebbe essere tutto Più veloce Refugliamo i contratti Qui Refugliamo le maglie Di qua E refugliamo anche Il caffè Prego ragazzi E ho ancora 5000 Vediamo 2000 Posso fare questo Ok Sì abbiamo due compositori Se non erro Vediamo chi è Ok Dove sta il Gaia Se non erro Comunque 6500 Anche questo 3000 3000 Ok questo Mi costa di meno Perfetto Ok Ok sta andando Sta andando Ci piace Oh mio dio però Mi costa un botto Però fare tutta sta roba Però mi sta ripagando E anche bene Però se non erro Oh Qua c'è qualcosa di misterioso Vabbè Ehm 5000 fan Guitariro Vabbè bellissimo Oh un altro Precisi precisi Qua è così Perfetto E 80.000 Che li dovrei avere Sì Un po' Eh che cavoli Che occhi Però me lo puoi dire Così Nelle fogne Si chiama Controllo di Ma che cavolo Ok Inquietante e forte Allora Qua solamente 150 Ancora di più 40.000 Aria di riposo No questo Questo è il campo Profughi No 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 non è Un'aria di riposo Questo Questo è proprio Per lo schiavismo Mi dissocio Ok 5.700 100 Ok Vedete il cibo Mi sta dando la testa Tutto il successo Cioè li sto trattando Malissimo Pinky Pinky Cosa hai in testa Pinky Pinky Cosa ti è successo La faccia Oh mio dio Beh Lasciamo stare Io Io non ho visto niente Io non so niente Allora 18 maglia Refulliamo di qua Refulliamo di qua E poi erano quasi finiti i contratti Perfetto Lo posso fare anche 95.000 Dei trofei Figo 800.000 No credo di aver fatto tutto Per il resto Molto bene Allora credo che possiamo andare a fare Un altro concerto Vai così Ci siamo Va bene Allora ammetto che questa è la modalità Più bella che hanno fatto finora Non dico la più complicata Però è proprio la più simpatica Perché puoi fare più cose Ci sta Grazie Grazie ragazzi Se lo so di essere fantastico Però non esageriamo Allora Con tutti questi soldoni qua Andiamo a refullare un po' di roba Intanto Perfetto Così Tenete il caffè Allora Volevo vedere Di comprare qualcuno qui Vai così Fare canzoni Vediamo chi è Vediamo chi è che mi fa le canzoni Chi sei tu? Brando Il jojo E 75.000 Ah mio dio Ok Ci ho ripensato Per il momento dire di no Lasciamo stare Qua i mischiavi amici Come sta andando Credo che posso mettere altre cose Ok per 6.000 Ancora Ma siamo seri Ma quante persone? Va bene Va bene Fate magliette proprio Cioè 15.000 Quello mi costa Troppo 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 Altra roba che costa di meno Magari Ok 100 magliette E qua Solamente 35 caffè E no Questo mi costa 5.000 Cioè ci arrivo Anche solamente Vendendo magliette Il resto Però per il momento Facciamo così E mi sono accorto adesso Che qui sotto C'è un gatto Ciao micio Andiamo a suonare Qualcosina Per i nostri amici Che dite Che dite ragazzi Per 12.000 Dollaroni Vai così Ok È una velocità Simile Ad alcune Versioni di Friday Night Funky Il che mi sta iniziando Di più a piacere No ho fatto Oh ho stonato Ok ho confuso i bottoni Va bene Però 94% Cioè Sempre un successo è stato Ormai Faccio solo successi Per questi qua Comunque Ma che cavolo Va bene Ti ho sembrato Di vedere cosa Allora 15.000 Aumentiamo i soldi Che mi danno di più A canzone No E a sto punto Anche Qua I soldoni Riusciamo ad arrivare A 4.500 E 5 No Come mai Mi dice che si è fermata La catena Deve andare a controllare E infatti Sono finiti i cose Oh cavoli Sì Mani in alto Tenete Lavorate Non vi ho detto Di stare fermi Perfetto Ok Ora aspettiamo Un po' di soldi Da parte loro E dovremmo riuscire A comprare Anche questo qua Perfetto In modo da guadagnare Ancora più soldi Ok Ho fatto un altro concerto Abbiamo più di 40k Vediamo Se riusciamo a potenziare Ancora qualcosa Ok Con 15 Ci prendiamo Anche questo E 22 Altri due Ok 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 300 Ampliamo ancora Oh mio dio Ma quante cose 30.000 Quello Allora Lato positivo Che adesso produrranno Ancora di più Forse Forse è l'ultimo Quello Ci ne stavo No è l'ultimo Questo Quindi ho quasi Maxato Questo qua Per le magliette Ok Mettiamo altra roba Infatti mi costa 120 Mettiamo qualche altro Contratto E qua i miei Caffè dipendenti Ok L'avevano quasi finito Ne ho 6.000 Ok Praticamente 7.000 Perfetto Posso acquistare anche questo E non solo Oh No Ne ho 437.000 Di fan Ok Che la taglia Andavidare Nel momento 100.000 Cioè poco Pissiamo 118.000 Siamo Allora Con 75k Faccio quello Eh non c'è niente Che posso fare Per il momento No 800 No 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 Ancora no Dobbiamo aspettare Ok Guadagnerò Un botto di soldi Con questa Voilà Quanti soldi Siamo quasi a 100.000 Ragazzi Siamo quasi a 100.000 Non iscritti Ma soldoni E abbiamo fatto Oh mio dio Un botto di fan Allora Degli skate A caso Va bene Ci piace Qua altra roba Ce li ho All'800.000 No ancora non ci sono arrivato 800.000 Eh va bene Va bene Va bene Ho un milione di fans Ancora non ce li ho Qua siamo a 60 magliette Pinchi con la testa storta Eh Vediamo Qua ho maxato tutto Un milione 350.000 Questo si però Ok Molto bene Allora Per 30k Potrei fare questo E non so se Non so se Maxare Provare No A maxare Non ce l'ho Però Potenza Questo faccio Non lo so Ragazzi Indeciso Quando ho finito il caffè Praticamente Sbrigatevi Eh Eh Non so bene Che fare Perché ho un botto Di soldi Ok E qua stanno ancora Facendo Cioè arriviamo a 100.000 Adesso si è riscuoto Però Però Festa 120 per canzone Eh No forse è meglio C'è questo Cioè Credo di sì E anche potenziare Nel tocco questo Ok Se guadagno di più Credo sia la cosa migliore Ok E posso fare anche questo Cioè guadagniamo un botto Di soldi extra Confronto prima Adesso Quindi secondo me È la cosa migliore Cioè guadagno in più Soldi dal tour Dalle magliette Dai cd Da qualsiasi cosa Eh Con questi 3.000 Però io Non me ne faccio Assolutamente Niente A meno che Eh No Quello 10.000 Che ci arrivo È tempo un minuto E ci arrivo Ai 10.000 Quei 5 Oh Proprio Fai questo Ok Molto bello Va bene E anche questo Altri poster Ciao Già Non male Non male Non male E questo Ok 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 Sta procedendo tutto Molto bene Molto bene Molto chiaro Purtroppo Non ho tutti quei milioni Io al momento Qua 30k Ho un milione di fan No No Potrebbe andare meglio Però va bene Ok Allora 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 Oh mio dio Quanti soldi Stiamo facendo Ok Aspetta Riusciamo a farne magari Ok Oh mio dio 68.000 Ragazzi Arriviamo a 70.000 Voglio arrivare a 70.000 Vi prego Sta salendo tutto Vertiginosamente Oh mio dio Non mi ha più Falle d'idea Ok Ok 70.000 Vai Riusciamo a prendere 70.000 dollari Con un singolo concerto Più il bonus Ok Oh diventa più complicato Stavate più lento Ma ci sono molti più bottoni Ok Wow Ok Welcome to Las Vegas Quanta roba ho fatto Milioni di fan Hanno fatto Inutile Ti ho visto Inutile che mi spiega E se è andato Vabbè Allora Ah però non arrivo Allora Non credo che viene ammazzato Però Beh Sapete cosa Ho un batto di soldi No davvero tanti Ehm Mettiamo più roba di qua E cerchiamo almeno Di finire con i dipendenti Cioè gli schiavi Con gli amici Che devono fare questi lavori qua Ok Magari se Ad aggiungere più persone possibili Potrò fabbricare di più Ok perfetto Veloci Veloci Ok Altri 200 5 fan Ok va bene Poi 32.000 Qui Perfetto Veloci Veloci E 50.000 Ok credo Di aver così finito Qua 70.000 Allora Altro Ok 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 140 caffè Li refulliamo Ehm Ho un milione di fan È vero Qua 7 milioni Ne servono Di conseguenza Posso sbloccare più cose Anche di qua Wow Ok E 800.000 Anche di qua Tutto molto bene Ok Rimettiamo un po' di cose di qua E dovrei avere Qualcosa anche di qua Mi pare Ecco Milioni di fans Perfetto TV per gli amici Sempre roba emo Emo Spongebob Normalissimo Ok Ok Tutto bene Tutto bene Lo ancora aspettiamo Un pochettino Allora Ho fatto un'altra esibizione Infatti ho più di 100k Qui Allora Vediamo un po' Assumiamo E Questo mi costa davvero troppo Oh mio dio Però Riescono a farmarmi un botto di roba Allora Con 50.000 Forse qua Ce ne scappa un altro 30.000 Qui Vai per il merchandising Ok E il prossimo 47.000 Vediamo Ho un milione e mezzo Di fan Neanche due milioni Quindi non lasciamo fare niente Però lasciamo potenza Qualcosa qui Sì 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 Ottimo 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 Vai veloci Veloci Farmate Allora Ho 90k Sì Allora Potrei Vediamo Cosa mi conviene Per fare 150 Oh mio dio Quanto mi viene a costare la roba In Mila qui Oh mio dio Però ci arrivo quasi In realtà Non lo so se mi conviene o meno e se invece faccio dei potenziamenti Guadagno più soldi è sempre conveniente no Ora per esempio guarda che bello Tac perché bello più soldi per tutto Quello che non mi piace che i soldi ma starizzando scarse già un pochettino cioè per quanto riguarda il concerto Oh mio Dio Oh mio Dio Mi fanno male le dita vi prego 98% no è la difficoltà aumentata Più 35.000 k Soldoni proprio è che non riesco a acquistarmi sa roba io ragazzi Non, so se maxarmi altro andare direttamente con il concerto cioè aspettare max anni poi il concerto Non, lo, so cosa mi conviene Allora per fomento per il momento mettiamo qua il caffè in omani Quasi quasi mi maxo questi cioè forse mi conviene Questa cos'è? Che reparto è quello che mi fa guadagnare di più di meno? Marketing Questo è merchandising, è marketing che mi fa questa di più mi pare Recording studio Loro non lo so quanto mi fa guadagnare ma suppongo tanto perché mi costano più di tutti gli altri Questa c'è la mia maglietta ragazzi del mio gruppo di roblox comunque Mettiamo qui Boh non lo so non lo so non guadagno abbastanza 47k vai Buttiamo più persone di qua Ok E qua 100k Altre due persone che lavorano qui Per me per il momento va bene così Cioè qua le ho quasi finite con le maglie Ok aspettiamo ancora Voilà con un bel 99% E la folla in delirio Io lo si portò così a casa altri c'è quasi 150.000 E con 150.000 forse è maxato? Credo a sto punto aspetto Cioè ok si potrei fare altra roba Senza dubbio Però boh sto tutto quasi quasi mi conviene Credo Ho 2.04.000 di followers Però non ci conviene niente con 2.000.000 Ma siamo seri? Poveri 2.000.000 di persone Vediamo Intanto refugliamo qui così continuano a produrre Vediamo vediamo Ci sarà qualcosa che posso fare con tutti questi No 105.000 No 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 Assolutamente no Vabbè tocca aspettare i numeri più alti Comunque Ho maxato Livello massimo Concerto di livello massimo Cavolo Tanta roba Ok il prossimo però chissà dove Cioè eravamo a Las Vegas prima Più di Las Vegas Puoi tenere tutto Come spazio In che senso spazio Spazio Ah ok Speriamo ne valsa la pena aspettare tutto questo tempo Comunque Ok Complicato Complicato Wow 100% Vabbè Too strong Too strong Grazie Grazie E' inutile che lefty ti vedo Allora Vediamo Vediamo Eeeh Forse mi conviene Maxarlo Quasi quasi Ah non posso Oddio quanto mi costa però Un bel po' Maxarlo costa 100.000 E no Ancora 27.000 Tutte queste persone mi costano un botto effettivamente Allora Vediamo Andiamo un po' di caffè Con 30k Qua però mi superai 100 Mi sa che ormai non riesco a prendermi proprio un bel niente Quanti followerò Che quanti fan 2,7 milioni E no Non ce la farò Non ce la farò E' da due ore che sto giocando ragazzi Vabbè Credo che posso concluderla qua Ormai Siamo anche abbastanza vicini alla fine in realtà Quindi Non credo che ci sia nulla di nuovo da aspettarmi Qua 11.000 No Ci mettere davvero troppo tempo ancora Quindi Per ora la finisco qua Però questi erano i Lamacs Gli Amacs Fantastico Mi è piaciuto Mi è piaciuto Grazie a tutti.